La missione in Kazaki satte la camera di commercio del canton Ticino si trova oggi qui ad Astana dove è in corso l'importante Astana Economic Forum, l'equivalente di Davos per l'Asia centrale. L'Asia centrale è un'area di importantissimo sviluppo economico per il prossimo decennio e le imprese svizzere sono ben posizionate per prenderne parte come testimoniato dall'imminente missione qui del consigliere federale Schneider Hammann. La nostra missione si è basata su due momenti salienti, una parte maggiormente diplomatica e una parte maggiormente economica dedicate agli incontri business to business organizzati per le imprese ticinesi. La prima parte diplomatica è stata volta ad onorare il memorandum of understanding firmato lo scorso mese di agosto in occasione di ESCO 2017 dal governo ticinese e dal governo della regione di Almaty, l'Oblast di Almaty. Ci siamo infatti recati a Talgigorkan, capitale dell'Oblast, in cui siamo stati accolti con particolare affetto, il che è promettente per gli sviluppi futuri e che ci ha aperto le porte a visite a numerose imprese industriali, specialmente nel settore dell'energia rinnovabile. La parte business to business è stata organizzata soprattutto per le singole imprese, industriali e finanziarie, con importanti controparti cazzate. Durante il viaggio siamo stati accompagnati dall'ambasciatore della Confederazione, signora Kursh Schmidt, che desidero ringraziare in questa occasione per la sua cortesia. Cosa possiamo dire per il futuro? Siamo attesi a braccia aperte dalle autorità e dagli operatori kazaki. Numerose imprese ticinesi hanno già manifestato interesse per venire qui con noi e quindi ci proponiamo di accompagnarli in un prossimo futuro. Ho partecipato alla missione organizzata dalla Camera di Commercio Ticino in Kazakistan con l'intento di promuovere iniziative sia aziendali ma nel campo specifico per la promozione dell'energia alternativa. Nel mio caso specifico impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Ho incontrato sia da parte governativa che da parte di aziende private molto interesse, molta disponibilità, molto disorientamento. Comunque hanno dimostrato anche tramite già le leggi in vigore messe in campo negli ultimi anni la volontà di andare in questa direzione e di costruire qualcosa di buono, energia alternativa e appunto per questo gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sono di grande interesse. Logicamente bisogna lavorarci seriamente in collaborazione e proporre soluzioni che siano facenti sia per loro che per il fornitore. Come ho detto prima è stato dimostrato un grande interesse, anche una gran volontà e una gran disponibilità a collaborare ed anche a investire nel campo che è promettente e anche a investire nel campo che è stato un grande interesse, anche a investire nel campo che è stato un grande interesse. Grazie a tutti.